Grazie a tutti. Non ha senso, infatti non ha senso, ti sposti e ti senti dall'altra mano a fare. Qual è il problema? Qual è il problema? Qual è il problema? Ma non ce n'è il problema, non ce n'è il problema. Ok, io lo sto filmando, problemi no, ma non ce n'è il problema. Allora io continuo a filmare se problemi non ce ne sono. Ti ha toccato qualcuno a te? Noi siamo qui a volantinare sotto il consolato di Spagna, il consolato l'orario di Spagna. Non c'è niente da onorare quando la Spagna da decenni tortura, umilia e soffrime il popolo basco. Dunque non stiamo facendo niente di male, siamo qua, stiamo volantinando per ricordare che oggi a Madrid un compagno, un compagno che abbiamo conosciuto bene perché è stato qua ospite in Italia, a Roma. Ok? Sta venendo un processato. Lui come tanti altri in questi mesi stanno venendo processati dall'Audienza Nazionale del Tribunale. L'ispirazione è per chi sta mai riformato. La situazione è molto semplice. Noi siamo qui a ricordare che alla Spagna deve smettere di torturare le prime e opprimere il popolo basco. Ok? Semplicemente questo, semplicemente questo. Lo facciamo insieme, comandinando, svegliando le pandemie dei paesi baschi. E' vero, libertà, un popolo basco, solidarietà, grande. I compagni baschi non sono terroristi, ma un popolo che basta contro i fascisti. La situazione è la situazione. La Spagna ordina e l'Italia obbedisce. Gli stati sono gemelli nella riflessione. E invece i popoli sono fratelli della solidarietà. Questo stiamo ricordando sotto il consolato l'onario di Spagna. Rivaliamo perché siamo qua, perché riceviamo questo trattamento da parte della Palestina. Siamo venuti qua in solidarietà, con un compagno basco che come tanti lo ha richiesto. Adesso c'è un'odienza nazionale, sicuramente, con l'uso richiesto da Franco sotto il fascismo per retribere due milioni di senso e ogni richiesta di autodeterminazione dei popoli che vivono nello Stato Spagnolo. Un tribunale che non è mai stato riformato perché l'altro del popolo basco non si è mai fermato nonostante la cosiddetta transizione democratica. Siamo ancora a 700 e le tenute politiche sparse per tutto il territorio spagnolo e francese lontano le loro affetti, lontano i loro locali, lontano la loro terra. Siamo venuti sotto il consolato l'onario spagnolo, proprio in solidarietà con l'Andre che stamattina è un compagno del presidente, processato, la presenza nazionale che si è fatto un compagno in pieno, dottorato, in cancele. Per tentare, per tentare di storcergli nomi, per il teorema che tutto è terrorismo, tutto l'aesa, nonostante la stessa organizzazione armata ormai da due anni ha detto che il tempo di soluzioni tolita, che mi sposta a trattare che finalmente si possa vivere in pace nel paese basco e che finalmente il popolo basco possa decidere autonomamente e praticare il proprio diritto all'autodeterminazione. Tre e quattro compagni sono saliti dal console a consegnare un documento di salarietà, proprio perché anche in Italia, da anni, con il lavoro dei comitati, le HL, le Oscala e le RL in Laguna, abbiamo deciso di non far tacere quella che è la situazione del popolo basco e proprio oggi, in concomitanza con il processo di l'Andre del Vieno, abbiamo deciso di venire qua a dirglielo in faccia, non c'è niente da onorare, non li lasceremo in pace finché loro non lasceranno in pace il popolo basco.